Ciao a tutti ragazzi, su questo onestimo video di Mastara siamo qui con 9 ore 89 Ciao ragazzi Undertaker data ragazzi, finalmente ritornati sul canale Finalmente ritornati sul canale, perchè non carichiamo il video da un bel po' di tempo Comunque, oggi siamo a un video reazione al video divertimento a casa di Claudio Limitaggio Allora, questo video ragazzi è davvero stupido, me l'ha mandato un mio amico Ringraziamo il mio amico Slava Vabbè, già sta ridendo perchè non capisce il titolo Comunque, comunque sei pronto? 3, 2, 1, via Che bello Non si capisce che cazzo lo è Ho un ombrello? No, è una faccia, sembra tipo una bambola È un caniglio Non urla Eh no, è un coniglio Di carta Perché fa così? Che cazzo hai significato a sto video? Che bello il divertimento a casa Ciao, ciao amici del minimondo Benvenuti a... Art Attack Romero e Giulietta Parte 2 Continuiamo a lasciare Per niente Perché? Perché sei brutta Tu mi faccio brutta a me Sei... Ah, 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 ah Che spasso Che eri stata più malefica del mondo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aspetta un attimo Aspetta un attimo Vi ho spaccato questo shatush Vita Che è amore? Cuore Che è amore? Battito Che cazzo vuoi amore? Ma ti devo fare un aschi? Eh, tenete pure Ma tu, amore, vuoi fare Fare me le figure E questo shatush Sto fuorescendo Non ho capito Che è sto shatush? Oh Vita Ma un shatush è una cosa Che è accaduta Sto fuorescendo Perché? È un topo? Ma no, amore È un shatush E che cazzo è lo shatush? Che cazzo è lo shatush? Ti l'ha appena spiegato Vita Che? È una cosa che è di un colore Ah, so capito E' un topo di fogna Fosforescendio Ah, ma Dio Non c'è la sua vita Che amore Cuore Che cazzo è lo shatush Battito Mi sono stufato Ma è vero che quel camellene Mi vedeva tutta me Che mi faceva Ma che vuoi sci con me stasera? Eh Ma signor Fatti cazzo è lo shatush Cazzo è lo shatush Una domanda Quanti anni hanno? Eh, sti Non so Un ragazzo è una ragazza Ecco la terremitaggio A 12 anni Ora Mi bacerai Ma te lo stai sognando, vero? Perché io questa cosa Non la voglio fare Eh Ma perché, amore mio? Perché dobbiamo lottare Tra noi due? C'è bisogno che te lo dica Perché? Allora Ecco Ma perché? Che salbavatura sul braccio? È il pennarello È il pennarello Non sta mai attento Sembra un bambino di due anni Invece ce l'hai dieci Ti rendi conto? Ah dieci? Sì, è il sussino creatore Di due anni e mezzo E ce ne ho dieci Pure io E pure lui A me ne mi piacciono le donne più belle Ciao Un anno per spegnere la telecamera Ma che tu hai scappato a me Una cosa così bella Eh, certo Bellissima Ma Ma Romeo Tu non sai di cosa stai parlando Dei mie scarpe Scarpe swag Scarpe swag Tsunami Go No È il nostro amore Ma scusami Perché? Eh, non è che farlo così Perché? È finito Ma che cosa inutile è questo video? Che cos'è? What the fuck is this? Perché non si spara? Vabbè Comunque ragazzi Ti dobbiamo stare da? Ero stanta nove Che non ci ho capito un cazzo Eh, manco io E? Vabbè questa vers- Un pirla che non parla Vale è rimasto stupidissimo Vale parla di qualcosa Che cazzo Mi ha significato Ah Non capisce che cosa significa Va bene Beh È tutto E al prossimo video Ciao 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 ciao